Una maxi-operazione dei carabinieri della Compagnia dell'Aquila in collaborazione con quelli di Avezzano che ha permesso di infliggere un duro colpo allo spaccio di stupefacenti nel territorio marsicane e aquilano 5 gli arrestati, si tratta di marocchini che danni di morano a Celano. L'operazione Terre di Mezzo in realtà fa parte di un'attività più ampia iniziata sotto la direzione del PM Simonetta Ciccarelli della Procura Aquilana. A svolgere le indagini tra il settembre e il dicembre del 2016 i militari del nucleo operativo radiomobile dell'Aquila agli ordini del tenente Maximiliano Papale. Intercettazioni telefoniche ambientali che hanno permesso di individuare un sodalizio criminale notevole composto per lo più da soggetti di etnia albanese e marocchina e anche da italiani del posto tutti dediti allo spaccio sull'intero territorio provinciale. La droga, una volta arrivata da Avezzano, veniva distribuita sull'intera marsica, all'Aquila e anche a Sulmona. A Celano l'operazione ha permesso di individuare un altro gruppo criminale composto da marocchini quelli colpiti dagli arresti odierni. Già il 18 settembre scorso c'era stata, lo ricordiamo, in una misura cautelare a carico di un albanese e di un aquilano. Nel complesso sono indagate nove persone per circa 20 capi di imputazione. Nel corso della medesima operazione tre sono stati di arresti in flagranza e sette le denunce in stato di libertà. Sequestrati anche oltre 100 grammi di cocaina e circa 15.000 euro in contanti provento delle attività di spazio. Tra i ruoli più rilevanti dell'organizzazione criminale, la prima, un'albanese classe 71 residente a Avezzano, la droga aggiungeva ad Avezzano da Roma o Pescara brevi e fugaci incontri per dare droga e prendere il denaro. Una dose veniva venduta a 40-50 euro. Tra gli arrestati in flagranza c'è anche l'Aquilano che aveva appena acquistato la droga dal cittadino albanese. Lui aveva il compito poi di ridistribuire sulla piazza aquilana. Autonomo era invece il sodalizio di Celano. Marocchini giunti nel Fucino per lavorare nelle campagne. Quotidiani e costanti gli spacci preannunciati da telefonate brevissime. La misura cautelare odierna eseguita invece dai carabinieri del capitano Francesco Nacca unitamente ai colleghi di Avezzano ed è stata tutt'altro che agevole. Gli arrestati infatti erano soliti cambiare di mora. Durante uno degli arresti un acquerente che ha bossato a casa dell'arrestato è stato trovato con oltre 2.000 euro, ovviamente sequestrati assieme a droga trovata nell'abitazione dell'arrestato.